con tubito qui con scarlet su scarlet nexus in compagnia del vostro diabotex vi dico subito che dovrebbe arrivarmi un corriere quindi nel momento che mi squillerà il telefono io ve lo dico metterò in pausa dove mi trovo trovo e devo scendere giù e quindi avvisati poi magari non arriva mentre sto registrando ma io metto le mani avanti allora detto questo vediamo se c'è ancora qualche evento legame da da approfondire a loro regali nulla che gli può essere utile ok quindi andiamo subito con l'evento legame su via vediamo un attimino c'è da il tuo coro nikita va ima cara bene 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 vediamo un po ma devo accompagnarla devo accompagnarla in missione ah ok qui sono di livello 55 ottimo allora sì allora sì che va allora sì che va la grande ragazzi eh sì che va la grande qui allora e beh via manteniamo e buttiamo qui eh vediamo un attimino il da farsi ok direi che va bene così direi che va bene in questo modo ho qualcosa da prendere qui beh direi di sì eh abbiamo degli eventi legami che ci portano comunque in missione quindi al momento non è che ci sono chissà quanti nemici da fronteggiare però insomma non è che ci sono Lei voce per la sottofondo di Settoletta di San Vangelo, come diceva di un anno testo Ah, in quel momento. Nel caso, c'è qualcosa di più che ci si ho fatto. Da l'ora, non ho mai pensato che sono stato così, non c'era un'espatita di fare questo mondo. Non c'è questo. Non c'è nessuno che ci sono. E non c'è nessuno che ci sono. Non c'era un po' di pensare. Alla prossima Votare, gioco Non è bene, non ci si può Non è un problema 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 Bene Se vogliamo combattere per me non c'è problema Almeno sono anche ben soddisfatto che sono di livello 5 E qui anche i nostri Super mostriciattoli Così ce la possiamo divertire Ok? Ce la possiamo tranquillamente divertire Allora vediamo un po' Vediamo un po' qui Sì vabbè Ora si ride comunque Ora Ma dai ma ragazzi Comunque riesco a fronteggiarli senza Beh Senza tanti problemi Non proprio Però insomma dai Qualcosina in più si può fare Qualcosina in più si può fare Si può fare Veramente si può fare Veramente si può fare Credo eh Staremo comunque a vedere Allora via via Andate via qui Allora Da che parte no Innanzitutto devo andare qui Perché ho da raccogliere qui qualche Un po' di materiale Ragazzi Cioè tutto questo tempo Siamo ancora La prima run E in questo periodo Giustamente ho rallentato Perché Anch'io mi devo fare Un po' di Sano riposo Allora No vabbè Inutile che andiamo da quella parte Ci sarebbero oggetti Da raccogliere Ma Non è il caso Non è il caso Di perdere tempo Andiamo in missione Anche perché Non so quanto durerà E quindi Ok No conosco bene Questa zona ragazzi Ma la conoscete bene Anche voi Quindi Ok Via via Ora devo vedere Alla fine di questo scontro Se mi ha dato Un po' di punti esperienza Oppure no Oppure no Allora Vediamo un attimino Vediamo un po' Al livello di punti esperienza Ehm Vabbè Insomma Andiamo avanti Vai Si prosegue Andiamo avanti Si prosegue Allora dov'è Stiamo salendo Stiamo salendo un po' in alto Abbastanza in alto Quindi Eh la strada è ancora un po' lunghetta Allora visto che siamo qui Acquisteremo Acquisteremo Degli oggetti da battaglia Perché comunque dovrei rifare anche un po' di crediti Perché Ne ho consumati abbastanza Ne ho consumati abbastanza Siamo arrivati Ma qui Ah ok E beh Me lo aspettavo Che ci sarebbe stato Qualche Qualche gigante Da sconfiggere Qui dentro E vabbè Era tutto Plausibile Ma anche immaginabile Quindi Vediamo un attimo Bene 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 Vai Vamos Eh vabbè Qui Non sono riuscito a colpire come volevo Però va bene così Va bene così Ah esperienza più Ah no no Com'è esperienza Mi ha dato un po' di più No Sono contento Che mi ha dato Un po' più esperienza Non capisco cosa ho fatto Per ottenere Cosa è successo qui Ah ok Qui sta aumentando Un po' Ah 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 Ho il moltiplicatore Di esperienza Ok Eeeh 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 Ah E' comparso un altro Un altro di questi giganti Qui eh Bene 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 Ma eeeh Vabbè Non posso usare I poteri Dei miei colleghi Insomma Non capisco il perché Il perché non lo capisco Ragazzi Però lo scopriremo Questo è tosto Da fronteggiare E questo è veramente E' tosto ragazzi Io spero di buttarlo giù Perché sinceramente Sentivo il peso Della battaglia Fino a Fino a prima Adesso con questo potere Coattivato Me lo sto Andiamo 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 Sì, non ci sono ancora un po' di più. Mi sono andato con un po' di due, e non mi sento. Mi sento un po' di più. Sì 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 ora non so se la missione continua ah no è finita qui credo eh? Ehm, non ho pensato, ma potrebbe essere un po' di risposta. Non mi sembrava che non mi sembrava. Grazie. E io, voglio cambiare questo mondo. Il mondo? Ehm, ma potrebbe essere un po' di risposta. Il mondo è stato un po' di risposta e un po' di risposta. Sì, anche il Suo, anche l'Sei Lan, anche il Togets. Ci sono un po' di risposta. Il mondo è stato un po' di risposta. Per esempio, il mondo. Noi, c'è anche l'attivazione. E' un po' di risposta. E' un po' di risposta per farlo. E' un po' di risposta per la vita. E' un po' di risposta per essere più alti. E' un po' di risposta per me. Non è possibile che non riesce a fare la mia vita. Non si non mette poi nessuno che non mette ma la mia vita. E questo è quello che mi potete fare a quello che fa. E perché non mi potete essere che cosa possa essere in più da loro, mi piacerebbe che ci sia un mondo più pieno di loro. Ma è un progetto d'ora, mi sembra di questo. Bell Pepper? Mi sembrava, sì. Ma cosa vuoi capire il tuo corpo? Puoi perdere la capacità del corpo. C'è il momento di non trovi di un grande problema. Ma non mi sembra di andare alla Bell Pepper. Mi auguro che mi siudo. Sì, non si è tratato di più. ...che sono stato un po' di più. Si, è vero. Non è vero, ma... ...dia non è vero. Non è vero. Quando ho pensato anche un'altra cosa, ho pensato anche la mia sanità. Non è vero. Ho pensato anche un'altra cosa. Segui pensato che stavano stavendo. No, non è così così. mi sembrava che non mi sembrava che non mi sembrava Ahaha, mi sembrava che mi sembrava che mi sembrava Ma ora è diverso, mi sembra di cambiare il mondo Cosone... Grazie No, mi sono sicuro. Per questo mondo, credo che sia meglio di questo mondo. E? Questo mondo? Cosa ne ha dovuto fare questo? Non è ancora deciso di essere deciso. Ma stai pensando in questo mondo. Grazie a tutti 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 Ok bene Eccomi qui si può continuare Eccomi qui Grazie a tutti Sì Alla prossima 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 Vi ripago dell'attesa Vi ripago dell'attesa ragazzi Alla prossima 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 Alla prossima